Nel Regno Unito, a Londra, Range Rover svela la nuova Evoque, Renault Twingo diventa Green, un giro al Nürburgring sul SUV più veloce di tutti. In casa Range Rover si alza il sipario sulla nuova Evoque, la piccola del marchio inglese per linee e forme, prende spunto dalla sorella maggiore Belare, arriva sul mercato con propulsori ibridi elettrici che promettono un impatto davvero minimo sull'ambiente, progettata per l'elettrificazione già disponibile nella versione mild hybrid, mentre entro 12 mesi sarà in vendita anche la ibrida plug-in. L'efficiente nuova propulsione mild hybrid è nata per la guida urbana con basse emissioni e consumi senza necessità di ricarica. L'impegno di Land Rover verso la sostenibilità è tangibile anche nella nuova gamma in materiali testili che offre alla clientela lussuose alternative alla consueta pelle. In Italia è già ordinabile con un prezzo a partire da 44.500 euro per la versione da 150 cavalli, quattro ruote motrici con cambio automatico, non disponibile invece al lancio. La variante ha due ruote motrici. Nonostante il trend di mercato del segmento stia facendo registrare numeri negativi, in casa Renault Twingo va in controtendenza segnando un più 5% di crescita con oltre 7.600 immatricolazioni, 5 porte lunghezza di carico record di 2,3 metri e un raggio di sterzata di 4,3. Questi sono i tre punti di forza che la contraddistinguono. Sotto al cofano c'è il primo motore Euro 6D Temp del modello in linea con la normativa VLTP e l'unico propulsore turbo della categoria. Il nuovo motore con alimentazione a benzina GPL, decisamente più ecologico, il gas rispetto ad altri combustibili, è disponibile con la trasmissione manuale a 5 rapporti e vanta caratteristiche che garantiscono emissioni e consumi contenuti. Con il GPL si può poi contare su un doppio serbatoio, 31 litri di gas ai quali si aggiungono i 35 di benzina, l'autonomia del GPL nel ciclo misto è di 420 km mentre per il benzina è di 636 per un totale di 1056 km di percorrenza. Tra le versioni Dual, Dual 2 e la Parisienne ai quali si aggiunge poi la variante GT. Il prezzo di partenza di Twingo GPL è di 13.150 euro sul livello 2. 7 minuti 49 secondi 369 millesimi e il tempo fatto segnare dalla Mercedes GLC 63 SMG 4 Matic Plus al Nürburgring Crono che di fatto la posiziona al primo posto nel suo segmento facendolo il SUV più veloce di sempre sullo storico circuito. Le condizioni non erano di certo le migliori vista la stagione autunnale eppure al primo tentativo la Belva tedesca ha stampato un giro da record spinta da un motore V8 biturbo controllata dalle sospensioni ad aria completamente adattive dalla trazione integrale AMG Performance 4 Matic Plus con distribuzione intelligente della coppia e dai freni in carboceramica ha viaggiato per le tortuose curve del Nürburgring fermando il cronometro su un tempo incredibile, un SUV estremo ma adatto anche alle fatiche di tutti i giorni con un ampio spazio per passeggeri e bagagli ed elevatissimi standard di sicurezza.